E' successo esattamente un anno fa, sono stata coinvolta in un incidente stradale. Sapevo di stare bene, ma non sapevo come aiutare gli altri. Da quel giorno ho fatto altro che pensarci, a pensare al modo in cui avrei potuto aiutare quelle persone. Ma con il corso di primo soccorso della Croce Bianca di Lumezzane ora saprò cosa fare. Io mi sono iscritta. E tu? Grazie a tutti.